Buongiorno ragazzi, settimana nuova, un nuovo allenamento, oggi con me ho due splendidi aiutanti, se siete a casa mi raccomando fatelo con i vostri fratelli, genitori, vi passa il tempo, vi aiuta, vi permette anche di farlo con una voglia migliore, perché farlo da sole è un po' noioso. Oggi cosa facciamo? Oggi facciamo una lezione introduttiva sullo yoga, partiamo con gli esercizi principali, anche quelli più famosi, che saranno lo saluto al sole. Perché facciamo yoga? Facciamo yoga perché ci aiuta in tutte le funzioni muscolari, quindi ci allunga, ci migliora la mobilità, ci rende più mobili e ci rinforza, lo facciamo al mattino per riattivare tutto il nostro corpo, lo possiamo fare tutti i giorni senza problemi, facciamolo almeno due volte a settimana, chi vuole però lo fa tutti i giorni. Insieme a questo video vi manderò un altro video dove faremo un test. Se siamo pronti possiamo iniziare. Allora ci alziamo in piedi. Il saluto al sole è composto da 12 posizioni, quindi come se fossero le posizioni di un orologio, 1, 2, 3, fino ad arrivare a 12. Cercate di seguirmi, parlerò almeno possibile in modo che il video sia corto e quindi abbiate più voglia di guardarlo. Prima posizione, ci mettiamo in piedi, piedi di larghezza del bacino, mani davanti al petto, unite, ci concentriamo, respiriamo profondamente. Quando dirò di respirare profondamente, facciamo sempre tre respiri profondi. Inspiriamo, quando dico inspiriamo vuol dire prendere aria, tratteniamo per un istante il fiato e poi espiriamo. Quando dico espiriamo buttiamo fuori. Siamo pronti. Nella prima posizione, solleviamo le braccia, andiamo indietro, avanti col bacino dietro con le braccia, e andiamo avanti nella terza posizione. Ci pieghiamo lentamente, portiamo le mani a terra, le gambe piegate, da questa posizione cerco di distendere le gambe più che posso. Terza posizione, le mani sono sempre appoggiate, passiamo alla quarta, mani e piede sinistro rimangono fermo, vado indietro col piede destro. Guardo avanti, appoggio il ginocchio destro, attimo fuori, andiamo alla quinta posizione, porto il sinistro, il piede sinistro riusciamo a piede destro, mani e piedi giù, testa in mezzo alle braccia, ginocchia distesa, sollevo il giù, posizione di spiagno rovesciato, da questa posizione, scendiamo, ginocchia a terra, piedi con le braccia, appoggio il petto, divento, sesta posizione. Ora, appoggio il bacino, distendo le braccia, pettino avanti, riguardi in alto, settima posizione. Abbasso la testa, rimango appoggiato con le ginocchia e le mani, distendo le gambe, testa in mezzo alle braccia, ancora camera resciata, portavo la posizione. Da questa posizione, porto avanti la gamba che rimane dietro, quindi porto avanti la gamba destra, in mezzo alle braccia, era quando il piede è più avanti delle mani, ok? Non tenetelo dietro, appoggio il ginocchio, petto in fuori, riguarda avanti, da questa posizione, piedi vicini, non in posizione, distendo, e ritorno davanti. Prendo su, ritorno indietro e ritorno davanti. Questo è il saluto al sole, possiamo anche scioglierci, voi lo dovete ripetere, originariamente sarebbe da fare 12 volte, noi lo ripetiamo 3 volte, poi ci fermiamo, respiriamo, recuperiamo, chi vuole arriva a 12, ogni volta sempre con delle serie da 3, quindi 3 circuiti, pausa, 3 circuiti, pausa, 3 circuiti, il minimo sarà 6 ripetizioni, il massimo sarà 12, mi raccomando, scrivetemi, fatemi sapere quanti li avete fatti, se siete riusciti a farli tutti, se l'avete fatto da soli, se l'avete fatto con i miei fratelli, se l'avete fatto con i genitori, non fatelo con i cani che vi saltano addosso, vi auguro una buona settimana, ci vediamo presto, ciao ragazzi!